quello di cui dobbiamo parlare vabbè innanzitutto lo avrete già capito dal titolo ma è un argomento alquanto scottante è un argomento che tiene banco in realtà da ben prima dell'arrivo di Claudio Ragneri però le voci continuano a circolare sarebbe una rivoluzione pesante ragazzi comunque qui stiamo parlando della cessione di almeno 10 se non addirittura 12 calciatori sarebbe una rivoluzione che andrebbe completamente a stravolgere la squadra perché poi la maggior parte di questi ad oggi comunque sono calciatori che rientrano nel giro dei titolari o comunque dei primissimi ricambi quindi è una situazione che andrebbe ulteriormente a destabilizzare l'ambiente ma e qui a gran voce anche tanti tifosi della Roma intervengono a gamba tesa è una rivoluzione totale e necessaria per ripartire veramente da zero per eliminare quelli che sono dei problemi io li metto tra virgolette all'interno dello spogliatoio perché la certezza assoluta e matematica non ce l'avremo mai ma è quello ragazzi che girano da mesi ormai a questa parte anche un problema all'interno dello spogliatoio sta creando tutti questi dissapori e poi di conseguenza tutti questi risultati che non arrivano ma ci arriviamo con calma perché io qui come sempre vi dico la mia vi dico che cosa ne penso da tifoso della Roma e devo fare anche un altro paio di premesse perché credo siano doverose comunque bentornati e ben ritrovati like per supportare questo genere di contenuti se in merito volete il parere del buon Fabio non vi costa niente vi assicurate tanti altri contenuti calcistici mi raccomando se ancora non lo fate seguitemi e attivate le notifiche tasto iscriviti, campanella attivi tutte le notifiche resti sempre aggiornato due canali di calcio un extra calcio in descrizione come sempre compariranno qui durante il video allora tiro leggermente su perché c'ho paura che poi il microfono va troppo in basso e non mi sentite per bene la prima cosa che voglio dire è ringraziare i tanti amanti del calcio non tifosi della Roma che hanno seguito la conferenza stampa di Claudio Ranieri io l'ho detto proprio nella reaction a quella conferenza nel video reaction a quella conferenza stampa ho detto se siete amanti del calcio non potete non ascoltare le parole di Ranieri andatele a recuperare quindi io vi ringrazio vi ringrazio perché anche non tifosi della Roma guardano i miei contenuti e questo mi fa molto molto piacere perché poi venite sotto a scrivermi ho visto la conferenza mi ha emozionato insomma è un uomo che insegna calcio e lezioni di vita praticamente un po' a tutto e a tutti quindi questa cosa mi ha fatto particolarmente piacere ci tengo a fare un'altra precisazione perché poi è palese che tante persone non guardino i miei contenuti magari reagiscono a un titolo per carità fa parte del del gioco delle parti ci sta assolutamente però se poi venite sotto a scrivermi ma perché ti esalti non avete capito che il problema vero della Roma non è ancora stato risolto quando io sono stato il primo a dirlo ragazzi sono felicissimo per l'arrivo di Ranieri perché perlomeno sta arrivando una svolta perlomeno stiamo cercando di cambiare qualcosa cioè dovrei essere sarei dovuto essere contento qualora fosse rimasto Juric ma è normale che mi cambiano allenatore è normale che mi fanno una scelta sensata una scelta ponderata una scelta anche voluta dalla piazza per carità ci stanno a dar contentino come qualcuno ha scritto ma ragazzi io guardo il mio stato attuale vedo che qualcosa sta cambiando ma secondo voi voi scambiate la felicità per esaltazione che sono due cose completamente diverse vivo la cresta dell'onda del momento mi lascio trascinare dalle emozioni perché sono un tifoso passionale come tanti di voi che magari ti fanno altre squadre finalmente sta a cambiare qualcosa ragazzi un po' come i tifosi del Milan qua lasciamo stare l'ultima parentesi Real Madrid che vorrebbero via Fonseca non lo possono più vedere ma qualora ne arrivasse un altro una scelta sensata ponderamo dico una cazzata arriva Paolo Maldini sulla panchina del Milan cazzata ma va a scaldare la piazza ma non sareste contenti per il momento poi a prescinde se il Milan continua ad avere alti e bassi periodi negativi sei riacceso sei riacceso ragazzi dopo una notte iPhone 4S dopo una notte che è stato attaccato sei riacceso non ci credevo che spettacolo ragazzi dice che ce devi fare è rivivere il passato non potete capire ogni tanto queste cose e faccio vabbè ma questa è una piccola parentesi non sareste contenti qualora andasse via Fonseca è periodo negativo è quello il discorso poi non siamo stupidi cazza di vibrata che ha fatto vabbè non siamo stupidi ragazzi nel senso lo sappiamo che questo è il primo step e che i problemi non sono magicamente risolti che ci sono tante cose da risolvere che ci sono tante cose che ci preoccupano a me personalmente ovviamente ragazzi guardare le prossime tre partite preoccupa tantissimo però preferisco guardare questo periodo negativo con Ranieri sulla panchina non so se me lo so spiegato è semplicissimo ma io non ho mai pensato i problemi sono risolti adesso cominciamo a vincere la Roma esce dal baratro no c'è tanto da lavorare e qui ci ricolleghiamo al senso di questo di questo contenuto perché se si parla di rivoluzione Roma di gestione di 10-12 calciatori è un qualcosa che effettivamente potrebbe accadere con l'arrivo di Claudio Ranieri si sta dando un'ulteriore possibilità ai calciatori perché i calciatori non si possono cacciare come gli allenatori a stagione in corso così via ne mani via 5-6-7-8-9-10 i calciatori perlomeno devono aspettare l'apertura della successiva sessione di calciomercato e poi non è che poi prende e togliene veramente 5-6 nella sessione invernale cioè è un processo ragazzi che secondo me va fatto anche in più sessioni di calciomercato è un riciclo un ricambio che richiede del tempo e qui già in parte vi ho dato una risposta perché qualcuno dice adesso a gennaio partirà la qualunque secondo me è impossibile è impossibile perché a gennaio tu non puoi permetterti di stravolgere di rivoluzionare una squadra soprattutto qualora dovesse continuare questo momento di difficoltà soprattutto qualora i risultati non dovessero arrivare ma in generale ragazzi è una cosa che a gennaio non si può e non si deve fare credo che sia una regola non scritta di base dobbiamo stringere i denti e andare avanti arrivare alla fine di questa stagione cercare di salvare il salvabile perché poi qualcuno dice eh mo già state a pensare che lotterete per un posto ma chi l'ha mai detto ragazzi ma l'avete vista la situazione di classifica ma avete visto in che condizioni siamo ridotti avete visto che non ci reggiamo in piedi avete visto che corriamo a vuoto come dice Ranieri e che i risultati non arrivano perché sei tu il primo colpevole che non se li va a cercare fino in fondo ma che è un'anima in pena che gira a vuoto in mezzo al campo ma io sto a pensare alla Champions io sto a pensare all'Europa League io sto a pensare alla Conference io sto a pensare a salvare la stagione allora AS Roma adesso prendo la lista dei calciatori della Roma e vi dico quelli che sono i più indiziati qualcuno a gennaio potrebbe partire perché uno due tasselli senza stravolgere rivoluzionari secondo me potrebbero partire l'indiziato numero uno e lo ha lasciato intendere con i suoi malumori ha rilasciato un'intervista ma non mi ricordo dove è Leandro Paredes che comunque c'ha ancora 30 anni in realtà cioè se andiamo a guardare Paredes c'ha ancora 2-3 stagioni ad alti livelli per quello che l'abbiamo pagato sia nulla io gliela darei una possibilità anche perché non mi sembra che gli siano state date tutte queste possibilità da Iuric anzi e fino alla passata stagione con De Rossi era rinato ed era diventato ridiventato per noi un calciatore imprescindibile quando fino a poco prima ragazzi dell'arrivo di De Rossi con Mourinho Paredes era una salma un'anima in pena un calciatore che non c'aveva secondo me più niente da darci e poi invece l'abbiamo visto come si è invertita la rotta uno degli indiziati numero uno potrebbe essere lui innanzitutto qualora Ranieri non gli dovesse da spazio perché lui vuole giocare l'ha detto è semplice come situazione come questione ma voglio anche esprimere il parere opposto vediamo cioè nel senso vediamo Claudio Ranieri che cosa ha intenzione di fare vediamo che modulo ha intenzione di utilizzare vediamo se riuscirà a dare spazio a Paredes e se tornerà utile alla causa poi se effettivamente ragazzi anche con Ranieri perché questa è la prova del 9 non è che abbiamo altre possibilità ci siamo affidati a lui e andiamo avanti con lui fino alla fine della stagione secondo me con Ranieri è a meno dei glamorosissimi risultati apocalittici che possano portare la dirigenza ulteriormente a decidere di cambiare idea ma là la situazione sarebbe grave e alquanto preoccupante quindi vediamo se Paredes troverà spazio se non troverà spazio sì secondo me ragazzi a gennaio a gennaio se ne andrà sono di questo convinto ma un conto è parlare di Paredes e un conto è parlare di do sta qualcuno sta parlando di Mancini perché di questo se sta a dire vabbè Ermoso lo vorrebbe il Real Madrid per difensori scocciati ok ha già aperto le porte pure Ermoso potrebbe essere uno che piglia e decide ad andare se ne ha fatto anche capire apro sta parentesi che non si trova bene dal punto di vista umano come non come calciatore ha detto nel contesto Roma alla fine insomma si è abbastanza adattato per quanto non è abituato a tutti sti cambi allenatori però ha detto si trova bene col gruppo e via dicendo dal punto di vista personale la famiglia è rimasta in Spagna lui vive in albergo lì non è che sia molto sistemato e adattato ha detto se chiama la Spagna in un futuro ragazzi è casa mia insomma ha fatto capire che potrebbe andare via mi dica la verità sì se trovo il degno sostituto un sostituto a gennaio io sarei disposto pure a farlo partire ma l'abbiamo presa a parametro zero cioè il Real Madrid mi ha dato 15-20 milioni di euro per uno come ermoso se me li dà costituisci plus valenza e chi si è visto si è visto senza senza remole Hummels non mi esprimo manco perché Ragneri ha detto va fatto giocare ragazzi miei perché non gioca sto ragazzo perché non gioca sto ragazzo vediamo effettivamente quello che può da Hummels già se sta a parlare di Hummels via da Roma a gennaio impossibile al mio modo di vedere Ragneri lo farà giocare gli darà qualche possibilità e se ne riparla la prossima stagione Angeligno niente dalla niente Selic ragazzi non ce lo possiamo permettere ad oggi di cederlo lo devi sostituire per sostituirlo ce vogliono i soldoni ce vogliono perché dice mi viene in mente pure quello su cui continuo a spingere Trevisani no chi era quel calciatore che doveva venire per 10 milioni di euro a noi Assignone ragazzi non hai preso Assignone che sarebbe stato un signor calciatore sarebbe stato un signor terzino ti avrebbe tenuto un piedi là baracca secondo me avrebbe fatto veramente cose interessanti dice non hai 10-12 milioni per uno come Assignone e poi hai speso soldi inutilmente in altri reparti in altre situazioni che potevi benissimo benissimo evitare i soldi per cambiare allenatore e bruciarli con esoneri e contro esoneri ce l'hai ma 10 milioni per Assignone non ce l'hai ecco ad oggi quella sarebbe una cosa che dovrebbe essere fatta a gennaio ma secondo me deve entrare un ulteriore terzino e tenere anche Selic ad oggi perché Abdulhamid e Sangaré per lo meno fino a prima dell'arrivo di Claudio Ragneri a me non mi hanno dato nessuna certezza a me non mi hanno dato assolutamente nulla mi hanno dato solo che preoccupazione per quello che dico non si può far parte Selic a gennaio pigli due terzini e mannivi a Selic non la vedo una cosa possibile e plausibile quindi te lo tieni prendi quello sì in rapporto qualità prezzo ovviamente è un terzino che te possa tappare quel buco con le caratteristiche che chiede Ragneri e poi a fine stagione Selic secondo me ragazzi è ora che faccia le valigie ve lo dico onestamente poi c'è anche un'altra cosa che Ragneri è bravo a gestire queste situazioni cioè capace pure che Selic gli dice te metti là chiuso sulla destra non te muovi non spigni se spingi sulla sinistra con Angelinho e magari ragazzi semplicemente con compiti difensivi Selic non lo so ipotizzo tornerà ad essere un calciatore dignitoso non lo so però non credo avvenga sta rivoluzione se parla di Cristante addirittura leggevo sulle pagine di un famoso giornale sportivo che adesso non ricordo se era la gazzetta o il corriere dello sport comunque dicono che abbia chiesto addirittura a lui la cessione di fronte a tutta sta situazione ovviamente pure loro ragazzi diciamo che credo siano arrivati lasciate stare le prestazioni cattive ma credo siano arrivati al limite dal punto di vista opposto critiche 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 sui social bestemmie contro bestemmie chi te minaccia chi te sminuisce chi te insulta non la vedo così impossibile come situazione potrebbe essere che ha chiesto la cessione ma ripeto a gennaio anche per Cristante la vedo una cosa veramente impossibile no pure lui è arrivato una trentina d'anni vale circa 20 milioni di euro non credo avrà difficoltà ipoteticamente a trovare una nuova sistemazione e ragazzi ecco questo è un concetto che voglio che voglio aprire i cosiddetti senatori dello spogliatoio per me ci sono grosse possibilità qualora dovessimo fare una stagione veramente brutta che vengano mandati via tutti io non lo escludo assolutamente di fronte a una stagione disastrosa dico una cazzata i trenticesimo quattordicesimo quindicesimo proprio a fare la peggiore secondo me la peggiore delle ipotesi io lo vedo assolutamente plausibile e probabile che vengano mandati tutti via e arrivati a quel punto arrivo pure io a dito per una stagione sto andando avanti col tempo di quel calibro è ora di cambiare però una volta che li vendi li devi saper sostituire per saperli sostituiti torniamo sempre al discorso che ti serve una diligenza che sappia come muoversi che ad oggi non abbiamo quindi bisogna stare attenti a fare il passo più lungo della gamba perché è un attimo a passare male in peggio dismette completamente una squadra anche dalle fondamenta anche dalle basi senza le competenze di chissà come sostituire con calciatori che arrivano tutti i calciatori nuovi che arrivano e che devono trovare subito una magma cioè tu rischi veramente che passi da non dico dalle stelle vabbè le stelle per noi è stata la vittoria della conferenza e la finale dell'Europa League ma rischi di passare veramente alle stalle e di trascinare in stagioni veramente difficoltose quindi bisogna stare attento dai parti mie se dice attento Asmova a merda perché più Asmovi e più puzza e quando puzza troppo peggiori la situazione ecco non so se me so se me so spiegato con criterio tanti calciatori potrebbero loro di loro spontanea volontà chiedere la la cessione con E è appena arrivato Lefe ragazzi è ancora da valutare Pisilli è patrimonio e va ovviamente trattenuto su Zaleschi io non ho non ho capito se abbia rinnovato o meno ve lo dico onestamente poi sono sulla pagina di Transfer Market dice 30 giugno 2025 ragazzi il rinnovo ancora non è stato fatto e non capisco come se sia passati da o rinnovi o non giochi più a non ha rinnovato e praticamente gioca sempre questa cosa non la capisco non la comprendo è ragazzo da 22 anni ha un valore intrinseco abbastanza interessante messo nelle giuste condizioni secondo me non è un cattivo calciatore messo fuori ruolo ragazzi fa cagare ma ribadisco viene messo fuori ruolo e anche su questo calciatore Ranieri insomma Ranieri è chiamato a a gestire una situazione non non semplice e sì è uno degli indiziati che possa possa andarsene possa partire ma ad oggi se ne va a parametro zero perché non ha non ha rinnovato quindi altra situazione spinosa su Pellegrini ragazzi non escludo possa partire io arrivo a dirvi in questa situazione lui stesso ha detto se sono io il problema le faccio da parte ma poi ha aggiunto non sono io il problema io non escludo più niente cioè io comincio seriamente a pensare anche che Lorenzo Pellegrini possa decidere di andarsene e vi dico la verità io gli voglio bene perché è romano di Roma è una delle poche figure che ancora trasmette quel minimo di romanità e romanismo che ci sta all'interno della della squadra a prescinde da da tutto ragazzi a prescinde da da tutto quello che sta succedendo dalle sue brutte prestazioni di fronte a una stagione disastrosa pure Pellegrini potrebbe andarsene se salviamo sta stagione io credo che conoscendo Ragneri ragazzi uno come Pellegrini cercherà di tenerlo e di non cercherà di tenerlo lo terrà e si andrà avanti per le stagioni successive però non mi ricordo la situazione contrattuale dei Pellegrini mi pare che il contratto gli è scato abbastanza breve è a 2026 quindi attenzione anche a questa grana cioè Pellegrini è chiamato a decidere entro la fine di questa stagione o la società all'opposto è chiamata a decidere o se rinnova o se ne va perché mandarlo via a parametro zero non esiste quindi o rinnova o a giugno se vende via di mezzo non ce ne stanno ad oggi io non so che dipe ad oggi per me può succedere qualsiasi cosa ad oggi Pellegrini può anche andare via secondo me Valdanzi non perché io voglia che vada via però può succedere Valdanzi 21 anni ragazzi di che stiamo a parlare appena arrivato va tenuto e trattenuto e il Sharawi diciamo che è un'altra situazione comincia ad avere una certa età il contratto gli è scato nel 2025 per me è uno dei pochi che merita rinnovo anche stagione per stagione Sule è appena arrivato ragazzi c'ha 21 anni pure lui non prendiamoci per i fondelli è uno che si deve trovare anzi si deve ritrovare no si deve trovare completamente e credo che Corragneri possa possa trovare questa questa svolta quindi vende uno come Sule adesso a gennaio o comunque la prossima stagione dopo una brutta stagione significherebbe non cioè non dico fammi l'us valenza ma chi cazzo ti dai i soldi che hai dato alla Juventus per non so se mi sono spiegato è giovane e va e va trattenuto se il Meghera ragazzi poi rientrerà al Milan sembra che stia per rientrare dall'infortunio di conseguenza mi dolora perché perlomeno uno del ruolo decente e dignitoso che possa facciare la differenza su Dybala ha parlato lo stesso Ranieri Ranieri ha detto che Dybala con lui gioca che non sta a guardare le clausole che è la prima cosa che ha chiesto alla proprietà alla dirigenza gli hanno dato carta bianca gli hanno detto non ti preoccupa fai quello che ritieni più opportuno di conseguenza quale dovrebbe essere il problema di Dybala io vi ricordo che se Ranieri lo fa giocare quel totte di partite che sono rimaste e fai scattare il nuovo automatico Dybala resta da noi il nuovo automaticamente basta e non è possibile che a gennaio Dybala vada via ragazzi io non credo veramente che la proprietà voglia provare a metterlo in vendita a gennaio il calciatore più forte che c'hai il calciatore lo dice lo stesso Ranieri se incazzerebbe qualora veramente ed effettivamente la proprietà decidesse di vendere Dybala adesso non fa scattare il rinnovo automatico cioè Ranieri viene per cercare di rimettere in piedi una situazione ha detto pubblicamente che è il calciatore più forte che c'abbiamo che quando sta in forma te le ribalta le partite e te le decide da solo e tu a gennaio me lo vai a vende Ranieri dà le dimissioni in quel caso cioè per quello che ha detto no sappiamo che Ranieri è uno coerente quindi io lo escludo che Dybala possa essere venduto a gennaio secondo me giocherà il numero di partite ragazzi che serviranno per farlo rinnovare Dybala quando sta in forma gioca punto quindi poi rinnoverà e come la vedo io ad oggi e per me oggi non è un problema Dovbic appena arrivato Shomuro dove ragazzi si è scocciato ma a Cagliari ragazzi Ranieri ogni tanto lo utilizzava insomma conosce il ragazzo sa come gestirlo potrebbe essere un plus in più no il fatto che Ranieri gli è postata quella fiducia in più che magari Iuri ce lo gli dava e che nessun altro finora gli ha gli ha dato questa è l'attuale situazione della Roma qualcosa va assolutamente sistemato e puntellato ma non è tanto sulle uscite secondo me che dobbiamo intervenire a gennaio quanto sulle entrate mette qualche tassello importante per andare a tappare quei buchi dove ragazzi siamo carenti dove abbiamo dei problemi seri restituire la mentalità alla squadra e la mossa il gesto di prendere Ranieri è stato fatto e poi le somme definitive si diranno a fine stagione tra parentesi tranne qualche rara eccezione a gennaio vedi Paredes vedi qualcun altro che non si trova bene nel contesto che chiede la cessione che probabilmente verrà accontentato ma deve essere un'eccezione che fa la regola e non il contrario perché se no veramente ragazzi se dismetti una squadra a gennaio tu stai a dichiarare devo le retrocedere stai a dichiarare devo le fare una stagione del merda le rivoluzioni si fanno piano piano poi vediamo quello che succede in questa stagione vediamo quello che riusciamo a fare vediamo che risultati riusciamo ad ottenere vediamo chi è stato veramente all'altezza della situazione vediamo chi ha sudato veramente per la maglia vediamo chi non lo ha fatto insieme a Ragneri anche per il futuro perché vi ricordo che Ragneri che Ragneri avrà decisioni importanti sarà una sorta di direttore dell'area tecnica che sceglierà i nuovi allenatori che sceglierà ragazzi anche i calciatori è coadiuvato dall'aiuto anche del del direttore sportivo se dovesse restare Ghisolfi io mi immagino già la scena a Ragneri che gli fa a Ghisolfi scusa se ti interrompo zitto di incazzo che incapisci incazzo e fa bene secondo me e fa bene e fa tutto lui ad oggi poi dovesse arrivarne in altro se dovesse da una svegliata a Ghisolfi allora quello è un altro discorso è un motivo per Ghisolfi di crescere anche avendo a fianco una figura di quel tipo però ecco io guardo in prospettiva futura uno come Ragneri che sta all'interno della proprietà non solo dal punto di vista dell'allenatore ma dal punto di vista anche delle scelte un minimo di tranquillità in più ce l'ho ovvio che non basta ovvio che servono altre figure continuo a ribadire serve il CEO e poi tutto quello che ne consegue serve una proprietà che sia stabile solida qua a Roma e che controlli le cose personalmente e non in remoto figure importanti e non solo chi vivrà vedrà ragazzi diamo un attimo di tempo a Ragneri è appena arrivato vediamo che cosa riesce a combinar è arduo il lavoro perché ci sono tre partite improponibili ma vi ricordo un'altra cosa che poi ribadirò non esistono solo queste tre partite Tottenham in Europa League Napoli Atalanta il campionato non finisce tra tre partite dobbiamo ragionare più a medio o lungo termine dobbiamo rigiocare con tante squadre con tutte le altre squadre di Serie A non è ancora finito il girone d'andata poi c'è anche il girone di ritorno quindi diamo tempo a Claudio Ragneri facciamolo lavorare vediamo quello che succede e poi andiamo ad agire di conseguenza non escludo non escludo che dalla prossima stagione possa avvenire questa rivoluzione che tanti potrebbero partire e che se potrebbero ricominciare con un ciclo praticamente da zero un progetto quasi completamente da zero con cinque sei tasselli che restano e basta e non è detto che siano quelli i senatori dello spogliatoio quelli che resteranno anzi non escludo più nulla la vostra qua sotto nei commenti non escludo più nulla